la nuova piattaforma moto morini annovera anche una accattivante entry level si chiama 6 e mezzo ed è una naked proprio pensata per chi si approccia per la prima volta alle medie cilindrate anche qui i punti comuni sono molti con l'excape ritroviamo il telaio traliccio in acciaio ma con disegno diverso e quote ciclistiche più agili più svelte davanti c'è sempre una forcella steli rovesciati da 50 mm regolabile così come al posteriore il forcellone vincolato tramite sistema di tipo cantilever al mono ammortizzatore anch'esso regolabile all'interno del telaio incastonato il medesimo motore bicilindrico fronte marcia di 650 cc con cambi a sei rapporti anche in questo caso due saranno le versioni una potenza piena e una a 48 cavalli per neopatentati i cerchi sono a raggi tubeless anche in questo caso 19 pollici all'anteriore 17 al posteriore su cui sono montate gomme mezzeller caro street nelle misure 110 80 19 e 150 70 17 nota interessante la sella molto bassa da terra e il manubrio alto chiude la dotazione la strumentazione che non è più tft ma è lcd da 5 pollici anch'essa con possibilità di connessione tramite bluetooth al telefono a a a a a a a